Sì, credo che noi non si può passare l'ultimo anno a vivacchiare, il quadro politico è notevolmente cambiato, nel 2010 l'Italia dei Valori prese il 10%, adesso è una forza che non è più presente né in Italia e poco anche nella società toscana, nella politica toscana. Non c'era Renzi ancora arrivato agli incarichi, alla responsabilità di guida del partito e anche di guida del governo. Credo che di questo cambiamento è giusto per un verso con realismo prenderne atto e fare anche chiarezza in Consiglio su una svolta che io voglio imprimere per accelerare, non finire nelle sabbie mobili, non vivacchiare. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro, è in Consiglio, vogliamo finirlo e c'è una tabella di marcia sulla quale voglio che ci si verifichi in Consiglio regionale se c'è l'esistenza di una maggioranza per raggiungere quegli obiettivi. Se ci sarà benissimo, altrimenti bisognerà prenderne atto.